Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta edizione di un poeta di un poeta che ha questa manifestazione dedicata proprio alla poesia Tukur è la poesia vera, la poesia che nasce dalla terra ma anche dalla città poesia che tutti possono esternare e comporre e questa è una caratteristica di questa manifestazione che seguo fortunatamente dalla posizione prega, ecco, non si sente bene dunque, benvenuti a tutti, mi fa piacere essere così numerosi e saluto naturalmente il sindaco di Marta Lucia Catenensi il vice sindaco Amalizio Vachini, anche l'assessore della cultura e naturalmente tutto il volto pubblico che è venuto qui per il poeta di caso e do la parola immediatamente al deus ex machina di questa di questa maniera, è vero che si impegna tantissimo non so quanto costa in termini di sforzo di qualsiasi sforzo organizzare una manifestazione di questo genere ecco qui Antonio Fontana innanzitutto ringrazio tutte le persone che sono venute a trovarci le tante persone che ogni anno ci seguono ma poi se la...